Ciao a tutti ragazzi, in questo video vorrei portare una testimonianza speciale, il ricordo di Laura Latini, che è stata la doppiatrice della bella dormentata in Shrek Terzo. Abbiamo il ricordo di Roberto Scevalieri, storico doppiatore di Tom Cruise, in particolar modo doppiatore di Tom Cruise, in Mission Impossible, Mission Impossible 2 e anche in altri film che lo vedo la protagonista, Tom Cruise appunto. Ha parlato di lei come una brava attrice e una cara persona. Ha lavorato con lui nella serie tv Seas Holds. Ci tengo a dirvi questo, e ci tengo anche a fare tanti auguri a Milo Caprio per il suo compleanno. Buona... anche perché ho voluto ricordarla Laura Latini perché non ho mai rinascito l'intervista, era una persona stupenda e non c'erano ricordi qui sul web, quindi mi sembrava giusto ricordarli. A presto, buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.